musica 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 bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video sono xyuder e ragazzi beh ci siamo ragazzi chi di voi l'ha già fatto chi di voi ancora non lo ha fatto comunque morale della favola ragazzi finalmente le sfide sono arrivate alla settimana 7 e il road trip è stato sbloccato più o meno per tutti eccolo qua ragazzi ve l'avevo già fatto vedere anche questa mattina il signor road trip con un bellissimo backpack dello scudo anti sommossa molto molto cattivo anche lui come skin beh c'è da dire che finalmente una delle skin che non ha gli stivaloni giganti come quelli che hanno generalmente caratterizzato le altre skin di fortnite non ci dispiace assolutamente averla sbloccata ma ragazzi oggi voglio vedere con voi un video molto molto breve la stellina segreta della settimana numero 7 ragazzi quindi stellina segreta che ci garantisce ovviamente 10 livelli del pass battaglia che sono utilissimi appunto 10 stelline scusate del pass battaglia che sono utilissime per salire di un livello io ragazzi sono quasi arrivato alla fine ve lo ricordo non ho mai shoppato un livello che sia uno del pass battaglia ma mi sono preoccupato sempre sempre di farli uno dietro l'altro fa veramente ridere il road trip con il piccone del chupa chupa però meglio di niente meglio questo quindi ragazzi stiamo un attimino a vedere per chi ancora non lo sapesse dov'è la stella segreta della week numero 7 che ovviamente come sempre è nascosta nella schermata di caricamento che viene sbloccata al raggiungimento delle 7 sfide e ragazzi si trova al motel precisamente in questo punto che vi ho appena puntato andiamo a recuperarla insieme se ce la facciamo ovviamente dentro così di prepotenza dentro così attenzione andiamo giù molto velocemente si trova nella siepe che c'è lì vicino alla piscina vediamo se riusciamo a recuperarla bellissimo però con il delta plan del carburo dovrebbe essere qui ed infatti stellina segreta ragazzi della week numero 7 davanti a noi ce la andiamo a recuperare raga ci andiamo a killare e vediamo a che livello arriviamo del pass battaglia 10 stelline prese un livello per noi andiamo a vedere mi sa che sono a livello tipo 96 del pass battaglia che non è male allucinante allucinante avanziamo 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 così cattivi e prepotenti mi butto oh yes ritorno allo hobby bellissimo ragazzi lo spacca tutto grandi ricordi della season numero 4 e andiamo pass battaglia sale di livello raggiunto il livello 96 10 per cento di punti esperienza incrementati per noi beh ragazzi con questa schitarra io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video vi ricordo che sono in vacanza ragazzi quindi la live la troverete domenica cioè domenica 26 agosto la farò un'oretta e mezza di pomeriggio dal lunedì 27 agosto fino al 5 settembre troverete invece le live dalle ore 13 alle ore 16 sempre tutte le mattine alle 2 e un quarto il video dello shop e tutte le mattine alle ore 8 il video delle news un braccio un abbraccio grande e un bacione a tutti mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale ciao 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 ciao